Questa estate, grazie al supporto dei lavori pubblici, molti lavori saranno svolti nelle scuole. Sono principalmente lavori di tinteggiatura, da tanti anni non si rifacevano così tante sedi scolastiche. In particolare vi dico che per quanto riguarda le tinteggiature procediamo alla scuola primaria Manzoni, alla materna del villaggio degli sposi, alla materna Bellini a Longuelo, alla materna Coghetti a San Paolo. Alla materna Tagliamento a Grumello al Piano, alla primaria Rodari a Loreto, alla primaria Biffi a San Tomaso, alla primaria Don Bosco alla Malpensata, alla primaria Valli alla Clementina e alla scuola secondaria Muzio a Colognola. Queste sono solo le tinteggiature, poi ci sono lavori di manutenzioni ordinarie e straordinarie in altre scuole che pure vengono ritinteggiate in alcune parti o sistemate. Insomma, per l'avvio del prossimo anno scolastico ci sarà aria nuova nelle scuole.